ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di nintendo incallito mi sono dimenticato di registrare all'inizio però siamo alla giornata numero 5 del nostro gameplay di pikmin 4 e oggi torneremo di nuovo nel giardino soleggiato perché l'abbiamo completato al 52 per cento quindi ci manca ancora poco meno della metà quindi speriamo di portarci bene avanti in questa puntata come avete visto nella puntata precedente abbiamo salvato un nuovo personaggio che cercheremo di curare e poi abbiamo visto che proprio là in fondo c'è il bulbo blu che però in questo non penso proprio che in questa puntata riusciremo a recuperarlo in ogni caso però ci possiamo portare avanti nel recuperare altri tesori che ci sono qua in zona come ad esempio ce n'è uno qua in fondo qua invece c'è anche una cava da esplorare quindi insomma diciamo che ci daremo un pochino da fare nella giornata di oggi e poi come vi ho detto qua c'è il bulbo blu quindi iniziamo con tirare fuori un pochino di pikmin che ci aiuteranno nella giornata di oggi e poi andiamo e partiamo subito all'esplorazione di quest'area qua ok quindi abbiamo detto che prima di tutto dobbiamo dirigerci in questa direzione se non sbaglio esatto perché là in fondo vedo che c'è il tesoro che stiamo cercando che allora per ora non ho visto ancora un modo per entrare però magari c'è esatto c'è proprio una via qua dietro quindi veramente ottimo qua troviamo un nemico proprio subito iniziamo a lanciargli addosso qualche pikmin per cercare di abbassare la sua la sua salute perfetto e così l'abbiamo sconfitto direi che adesso possiamo usare i nostri pikmin gialli per raggiungere questa che sembra una pallina mi sa e quindi adesso la trasportiamo immediatamente verso la nostra base perfetto abbiamo trasportato quella specie di pallina e invece per raggiungere questa buca qua io la vedo che è qua sopra dovremmo riuscire ad arrivarci con questi scalini qua esatto sono proprio curioso di sapere che cosa troveremo dentro questa cava si chiama labirinto industriale il terreno ha iniziato a muoversi ho cercato una via d'uscita ma da solo non potevo andare avanti mi chiedo se moss sia in grado di aiutarmi ed eccoci qua arrivati nell'area di questo labirinto industriale quindi vediamo subito che c'è un hot chin nascosto lì dietro o no non doveva succedere lontano da hot chin capitana qual è il protocollo per una situazione del genere ascolta bene nintendaro devi coordinarti con hot chin e metterti d'accordo su come potete incontrarvi usa y per aprire le azioni ed esegui uno scambio con hot chin wow non sapevo si potesse fare ok quindi teniamo premuto y e facciamo scambio quindi possiamo controllare hot chin ah ma dai è troppo forte questa abilità qua possiamo controllare hot chin separatamente veramente ottimo allora vediamo un po qua vedo che c'è un bottone e inverte l'ordine dei di questi rulli qua però in questo caso per ora ci torna utile in questo modo ecco fatto raccogliamo questi 5 pikmin gialli fantastico e torniamo sul nostro hot chin invertiamo la direzione esatto dei rulli e cerchiamo di rompere questo muro recuperiamo tutti quanti questi cristalli che sicuramente saranno utilissimi per la nostra avventura e lì sopra vedo che c'è uno skateboard fantastico però non riusciranno a passare da quella via lì quindi mi sa che dobbiamo invertire esatto dobbiamo invertire l'andamento dei rulli ok quindi premiamo il bottone blu in modo tale che i pikmin possano passare e adesso invertiamo quello dell'altro rullo ottimo abbiamo trasportato lo skateboard e quindi direi che possiamo recarci nell'altra area li vedo un pezzo di puzzle e questa cosa qua che serve per trasportare i pikmin dall'altro lato ed ecco fatto direi che quest'area qua quindi abbiamo l'abbiamo esplorata per intero e quindi adesso mi sa proprio che ci recchiamo al piano più basso di questo labirinto eccoci qua quindi direi che possiamo entrare eccoci qua a livello inferiore e vediamo un po che sfida dovremmo affrontare una zona parecchio più grande che succede ci deve essere un afrago nei dintorni infatti bravo a cin che l'hai fiutato vediamo un po vediamo un po ok vedo lì che c'è l'allarme una paperella troppo carina qua sotto vedo che ci sono dei pikmin gialli da raccogliere e anche delle altre gemme o quello che sono ok adesso proviamo ad usare questa specie di drone per attraversare questa zona qua e vedo che lì c'è un pulsante speriamo che tiri giù tutti quanti questi questi blocchi abbiamo una di quelle specie di fatine purtroppo non li abbassati tutti ad esempio questi qua che sono un pochino più arrugginiti non li abbassati però penso che riusciremo comunque ad attraversare andando dall'altro lato esattamente qua si è abbassata la griglia quindi intanto mando di pikmin gialli ecco qua c'è un'altra di queste di queste io le chiamo le chiamo fatine ma sembrano più tipo dei dei colibri iniziamo a mandare i nostri pikmin gialli a rompere questo muro e nel mentre io vado a buttare giù questo sacchetto qua con i pikmin rossi fantastico quindi adesso trasportiamo questa lente di ingrandimento verso la navicella fantastico quindi abbiamo trasportato anche la lente di ingrandimento e direi che quindi possiamo andare a salvare il nofrogo dall'altro lato vedo anche un trenino giocattolo sembra lì tutto nascosto nella terra quindi lo andiamo immediatamente a prendere e già che ci siamo trasportiamo anche la nostra base qua almeno così non devono fare tutto quanto il giro questi poveri pikmin qua e mandiamo dei pikmin gialli a salvare questo naufrago sperando che sia uno della nostra squadra perché finora abbiamo trovato un sacco di superstiti che non fanno parte della nostra squadra ecco fatto trasportato e vediamo un po cosa ci dicono bene controlliamo la scheda id dingo pianeta orri soccorritore che eccelle nelle missioni da solo non si mobilita volentieri ma in caso di necessità mostra tutte le sue abilità fisiche fantastico quindi sembra uno dei nostri colleghi lo sapevo sapevo che ce l'avrebbe fatta dingo è un soccorritore molto abile sebbene non utilizzi cani da soccorso è uno specialista nelle missioni da solo possiamo sfruttare la sua esperienza per proseguire la missione fantastico quindi abbiamo trovato il ranger ed eccolo lì aggiunto quindi ce ne mancano solamente due della nostra squadra di soccorso quindi direi che dopo aver completato quest'area controlliamo di non aver dimenticato nulla direi proprio di no possiamo tornare in superficie con quella ventola ok quindi ecco qua il riassunto abbiamo trovato un soccorritore e abbiamo raccolto un paio di oggetti abbiamo ottenuto anche qualcosa che cos'è quella medaglia a forma di stella russ ha trafficato un po con l'intelligenza artificiale appare dopo aver raccolto tutti i tesori di una serie c'è una certa risonanza fra tesori dello stesso tipo che ci permette di estrarre ancora più l'uminium fantastico non capisco molto la parte scientifica del discorso ma è certo che vogliamo collezionare la serie completa fantastico direi quindi a quanto pare abbiamo ottenuto tutta una serie abbiamo completato al 100 per cento questa cava e rieccoci qua in superficie allora quindi direi che abbiamo fatto praticamente tutto quello che c'è da fare in quest'area tranne questa cava qua che vedo che non abbiamo ancora esplorato quindi adesso troviamo un modo per arrivarci anzi li vedo che c'è anche un tesoro fantastico e anzi mi sa che possiamo far spostare la nostra base esatto così non si fanno troppa strada ottimo abbiamo ottenuto quella specie di palla da baseball e quindi adesso ci avventuriamo dentro quest'altra cava due cave in una puntata niente male si chiama grotta frenetica qualcosa qualcuno ha costruito un muro grezzo dentro la cava io e i pikmin siamo riusciti ad arrampicarci ma i moss ma moss non è stata capace per ora dovremmo separarci e sperare di trovare un posto dove poterci riunire quindi moss immagino sia il cane da salvataggio di olimar quindi addentriamoci subito dentro questo labirinto che bella caduta eccoci qua atterrati nella grotta frenetica qua vedo delle cose che sono completamente nuove chissà cosa sono non sembra niente di particolare magari si riesce a ottenere qualcosa esatto come in questo caso abbiamo ottenuto dei cristalli allora qua vedo che ce ne sono già due che stanno cercando di spostarlo ok sono due ghiaccini però non riesco a lanciare abbastanza lontano forse no perché non abbiamo quelli gialli quindi come non detto e quindi addentriamoci ancora un pochino dentro questa cava abbiamo qua dei fungoni ancora più grossi quindi cerchiamo di spaccarli ok hanno rilasciato tantissime di queste di queste cose qua qua vedo degli altri pikmin ghiacciati che possiamo recuperare fantastico e quindi immagino che dovremmo ghiacciare questo laghettino qua con 10 pikmin ghiacciati saltiamo qua sopra e ok riesco a lanciarli abbastanza lontano per raggiungere questa matrioska anzi solamente la parte sopra di una matrioska in realtà fantastico abbiamo trasportato la matrioska e anche questi due nemici qua almeno così guardiamo qualche luminum in più e adesso dobbiamo vedere cosa possiamo fare con questo muro qua mi sa che dobbiamo usare 14 di questi materiali per costruire il resto del muro eccoli qua sono stati veramente velocissimi e costruiamo questo muro in modo tale che possiamo arrampicarci purtroppo o chin non ci può seguire però tutti quanti pikmin si ok quindi qua abbiamo un bel nemico cerchiamo di farlo fuori subito ci manca poco ole fantastico perfetto nemico sconfitto congeliamo anche questa gelatina qua chissà che cosa si nasconde al suo interno ok l'idrogelatina è scoppiata non ho visto bene che cosa c'era ok invece per rompere questi vasi qua dovremmo per forza usare o chin che al momento si trova al piano più in basso buttiamo giù questo sacchetto qua per poter far attraversare pure o chin dentro quella idrogelatina abbiamo trovato questo oggetto qua molto interessante che sembra la parte sotto della matrioska perfetto abbiamo raccolto un altro tesoro 3200 luminum quindi abbiamo già superato un altro traguardo anche se dobbiamo arrivare prima ai 4000 luminum facciamo trasportare questi nemici e assieme a o chin vediamo come possiamo superare quella parte lì ok perfetto naturalmente i pikmin riescono comunque a passare attraverso le griglie quindi riusciamo a mandarli raccogliere questi queste scaglie qua quindi con tutto quanto completato direi che possiamo scendere di un altro livello in questo in questa cava eccoci qua scendiamo di un piano in questa cava e vediamo che cosa si nasconde più sotto eccoci qua un'altra caduta nel vuoto e vediamo un po cosa dovremmo esplorare in quest'area ok sembra che ci siano parecchi di questi vasi che succede ci deve essere un altro naufrago dentro questi vasi qua abbiamo trovato degli altri pikmin gelati e adesso troviamo un modo di raggiungere l'altro punto vedo che c'è anche un oggetto che possiamo raccogliere direi che l'unica soluzione che ci rimane forse farlo cadere esattamente in questo modo siamo riusciti comunque a salvarlo e nel mentre che i pikmin trasportano il naufrago io cerco di tirare giù questo oggetto qua perfetto l'abbiamo trasportato controllo subito la scheda id e si tratta di dalmo pianeta sozor ricercatore sincero e appassionato come rivela il suo sorriso genuino gli animali contraccambiano l'amore che nutre per loro sembra essere un appassionato di animali scommetto che ha letto il diario di bordo di olimar ed è venuto a cercare una nuova specie meno male che l'abbiamo trovato in tempo ma in quanti civili hanno deciso di lanciarsi l'avventura su questo pianeta davano biglietti gratis per caso oggetto trasportato e quindi non ci rimane che andare là in fondo e rompere tutti quanti quei vasi lì perfetto in questo modo possiamo tornare in superficie ok quindi ecco qua reso conto abbiamo salvato dalmo e quindi anche occin riceve un punto e abbiamo ottenuto ben tre oggetti e un po di nemici e ben 462 luminium completata al 100% fantastico rieccoci qua in superficie e quindi riprendo un po di pikmin anche se non c'è rimasto moltissimo da fare in questa zona qua quindi area esplorata al 75% perfetto non so con precisione che cos'altro c'è rimasto da fare purtroppo perché questa zona qua per ora non riusciamo ad attraversarla però vedo che qua c'è un qualcosa da fare quindi proveremo magari ad accedere a quell'area lì ok laghetto congelato e quindi riusciamo ad attraversare e vediamo un altro di questi personaggi qua con la testa fiorita non sarà uno di quei nafroghi a cui crescono le foglie? sembra molto felice Dandori Dandori ok e si butta dentro è scappato dentro una buca può darsi che le foglie abbiano un effetto disorientante Nintendaro Occhin lanciatevi subito al salvataggio detto fatto capitana ed eccoci qua che ci buttiamo per un'altra battaglia Dandori ok ecco qua il nostro avversario con le foglie rosa in questo luogo si prova il Dandori sempre più Dandori migliora il Dandori l'obiettivo è semplice trasportare il più possibile prima che finisca il tempo ecco tutto bene le regole le conosciamo i tesori qui sono imitazioni create da me non puoi portarmi a casa i Pikmin qui sono tutti miei non puoi portarti a casa neanche loro vuol dire che il Dandori non finirà mai che felicità per me e per te se fai bene raccogli i materiali se non fai bene li raccogli lo stesso se vuoi portami via fai del tuo meglio nel Dandori fantastico quindi è una specie di sfida per cercare di ottenere più oggetti possibile perfetto abbiamo sconfitto con il nemico lì qua vedo che ci sono anche altri Pikmin andiamo subito a trasportare questa specie di frittellina qua con i Pikmin nascosti mi sa che non riusciamo comunque a trasportare questa marmellata qua ma abbiamo questo nemico qua ok mi sa che prima facciamo fuori questi due che è meglio vai Pikmin voilà sconfitto abbiamo anche ottenuto questo biscotto qua intanto però direi che mando i Pikmin a tirare via questa radice qua in modo tale che possiamo attraversare molto più velocemente quest'area qua non abbiamo molto tempo purtroppo ok quindi l'obiettivo da quanto vedo lì è 90 e abbiamo 42 punti quindi cerchiamo di trasportare tutti quanti questi oggetti il più velocemente possibile abbiamo ancora un minuto e mezzo non è tantissimo però dai abbiamo fatto già praticamente tutto quindi ci sta manca solamente un minuto e mi pare che questo qua è l'ultimo oggetto da trasportare anzi no come l'ho detto là ci sono ancora un bel po' di oggettini da trasportare pure qua ai 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 dovevamo regolarci un pochino meglio mi sa che trasporterò questo oro qua che mi sa che vale qualcosina in più abbiamo pochissimo tempo forza Pikmin 3 2 1 ok ah cavolo ci mancava pochissimo per ottenere il rango oro uffa mi sa che mi dovevo organizzare un pochino meglio però pazienza ci mancava quella specie di pesca e il waffle quelli lì li ho mancati peccato ancora 13 per la medaglia d'oro mi sa che ci riproverò dopo lavoro troppo in fretta prendi questi 30 materiali è la tua ricompensa ai 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 mi sa che l'abbiamo sfinito oh no ha perso i sensi mi chiedo quale sia la causa beh se non altro è il momento giusto per tirarlo fuori da qui ok eccoci qua usciti da quella cava lì e vediamo un po' con tutte quelle foglie in testa non riesco a capire chi sia in ogni caso dobbiamo salvarlo sarebbe davvero un guaio se tornassi là dentro per precauzione tieni chiuso il coperchio della cava e trasportiamo questo naufrago alla salvezza ok lanciamo tutti quanti questi pikmin gelati qua per congelare questo laghettino barra fiumiciattolo e in questo modo potremo trasportare questo naufrago dall'altro lato eccellente ce l'abbiamo fatta e quindi vediamo un po' chi è anche sulla testa di questo naufrago crescono delle foglie vediamo se riusciamo a controllare la sua scheda ID ok pure lui ci dà errore che strano niente da fare purtroppo non riesco ad accedere a niente che sia per via delle foglie può darsi però insomma è una cosa veramente molto molto bizzarra quindi direi che in questa mappa abbiamo fatto praticamente tutto ad eccezione di questa cipolla blu e quindi direi che oltre a raccogliere magari qualche gettone la giornata è finita ok vabbè facciamo che nel mentre ho tirato su la cipolla blu comunque sembra che ci siano cipolle di molti colori diversi mi chiedo se abbiamo tante variazioni di colore quante ne hanno i pikmin? direi che potremmo concludere qua questa giornata perché ho cercato anche di raccogliere insomma le cose che non avevo visto però per il resto non abbiamo altro da fare domani torneremo a magari cercare di esplorare quel lago lì e ottenere questa benedetta cipolla blu però per oggi va bene così eccoci qua tornati dalla nostra missione con altri personaggi salvati quindi rapporto della quinta giornata ben tre personaggi salvati e quindi anche la motivazione di oggi ne è aumentata di tre l'uminium raccolto parecchio perfetto quindi abbiamo completato anche il set grande avventura con il binocolo l'orologio la bussola e la lente di ingrandimento e abbiamo quindi ricevuto questa specie di medaglietta veramente fantastico quindi ben 1371 l'uminium in una giornata e abbiamo completato al 92% quell'area lì bene capitana ce l'abbiamo fatta finalmente abbiamo trovato il nostro ranger dingo non riesco a credere di essere stato salvato da una matricola sto perdendo colpi sono felice di vedere che sei di nuovo fra noi dingo sei ferito? oh capitana no non sono solo commosso che ti preoccupi per me questo tavolo non è molto stabile mancano delle viti certo che anche lo scienziato potrebbe chiedermi come sto ah a proposito capitana ho delle novità sul nostro pilota davvero? sei dove si trova? bravo dingo come? no no non proprio oh sarai esausto dopo quello che hai passato mi dirai meglio domani ora va a riposare ah ok capitana si preoccupa della mia salute quindi significa che ci tiene a me ah prima di andare a letto ripassa tutti i dettagli della missione di soccorso così sarai preparato a dovere è proprio necessario perfetto quindi insomma un pochino di progresso l'abbiamo fatto non troppissimo però domani ne faremo di più quindi vi ringrazio tantissimo di aver guardato questa puntata di nintendo in calito mi raccomando se vi è piaciuta lasciate un bel mi piace lasciate giù nei commenti consigli domenica e tutto quello che volete vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i miei social facebook instagram e tiktok ed iscrivervi al canale nintendo in calito per altri fantastici contenuti ciao 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 ciao